Questo è l'imprendi promotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Quali sono le sfide che attendono la consulenza finanziaria? Come soddisfare una clientela sempre più esigente ed attenta? Perché la customer experience è sempre più rilevante nel determinare la lealtà, la fidelizzazione della clientela ed il successo quindi della tua impresa di consulenza finanziaria. Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendi promotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 23 dell'imprendi promotore podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio però prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va lasciami una recensione. Le tue recensioni per me sono importantissime per capire se la strada è quella corretta ed è quella giusta per continuare a produrre contenuti che per te ovviamente sono di valore. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendi Promotore Academy, la prima academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendi Promotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa digita www.imprendipromotore.it ripeto www.imprendipromotore.it Academy scritto con una C e con la Y finale. In questa serie di puntate dell'Imprendi Promotore Podcast mi sono interrogato su quali possano essere le principali sfide che il consulente finanziario è chiamato ad affrontare. Ne è uscita una serie di sei puntate dove ho avuto modo di individuare, isolare, analizzare, cercando sempre di dare successivamente delle soluzioni, ciò che in questo momento potrebbe rallentare la crescita della professione. Una crescita che può preannunciarsi molto importante a condizione che il consulente finanziario abbia la capacità di modificare il proprio pensiero su se stesso, sulla propria impresa di consulenza finanziaria, sul proprio modo di operare, sul proprio modo di approcciare il mercato. Un pensiero che è fatto principalmente di consapevolezza di un ruolo che è unico nel suo genere e che, a mio parere, non ha nulla da invidiare ad altre libere professioni che, per storicità, vengono considerate ovviamente dei punti di riferimento da parte dei clienti. Penso ad esempio agli avvocati, ai dottori commercialisti, ai notai, ai medici. Cambiare pelle vuol dire introdurre in maniera decisa nel proprio agire quotidiano gli effetti dello sviluppo di tutte quelle competenze cosiddette trasversali, penso in particolar modo alle competenze organizzative, a quelle relazionali, che più di altre sono in grado di generare del valore per l'impresa del consulente ma soprattutto che sono in grado di far percepire del valore al cliente. Quel valore che di fatto permetterà al consulente finanziario di essere sempre più coinvolto nei processi decisionali della propria clientela, in quanto considerato un vero e proprio partner professionale di lunga durata. Oltre che, chiaramente, questa è la mission, credo, di tutti i consulenti finanziari, è quella di diventare dei pianificatori di soluzioni, degli architetti di soluzioni. La sfida che andrò ad analizzare in questa puntata è relativa alla clientela, una clientela sempre più esigente ed attenta, attenta soprattutto a vivere una experience, un'esperienza, per la precisione una customer experience, di standard elevato, perché effettivamente oggi siamo sempre di più abituati a vivere esperienze e lo facciamo tutti i giorni relazionandoci con altre attività, in altri contesti, in altre situazioni dove effettivamente le customer experience sono di standard elevati. C'è uno studio che ogni anno viene redatto da KPMG, che è una nota società di consulenza, che analizza il rapporto, ad esempio, che c'è tra la marginalità, cioè la capacità di generare utili da parte delle imprese, e il livello di customer experience. La cosa che colpisce di più in questo report è che dove le aziende puntano dritte a far vivere una customer experience di alto livello alla clientela, queste stesse aziende prosperano, crescono addirittura a doppia cifra rispetto ad altre aziende competitor che invece, pur operando nello stesso settore, non sono in grado di garantire, ad esempio, un'esperienza ai clienti di altissimo livello. Peraltro, la customer experience, e puntare dritti alla customer experience, sembra anche rafforzare notevolmente quello che è la fedeltà che il cliente ha al brand. Se ci pensiamo per un attimo, anche noi stessi, ogni volta che tendiamo a rivolgersi con costanza a una determinata azienda, a un determinato brand, è perché probabilmente il tipo di esperienza che stiamo facendo è tale per cui, trovandoci bene, non possiamo che continuare ad approvvigionarci lì. Amazon è un esempio straordinario, ma penso ad esempio ad Apple anche. La loyalty che è la casa di Cupertino, ha conquistato negli anni da parte di consumatori, è proverbiale. Simon Sinek, nel suo bellissimo libro, che peraltro ti consiglio di leggere, ma che ho già citato in altre puntate del podcast, che si chiama Partire dal perché, che è edito da Franco Angeli, racconta di come Apple e come anche altre aziende, partendo dalla comunicazione del perché fanno ciò che fanno, fanno in modo di far risuonare il messaggio nei propri clienti talmente in maniera forte e potente da crearne dei fan sfegatati. Detto ciò, però, è vero anche che Apple è in grado di poter far fare una customer experience ai clienti straordinaria. Vi suggerisco di, se vi capitasse, di fare visita a un qualsiasi Apple Store in giro per il mondo e fare un acquisto all'Apple Store e vi renderete conto di che cosa vuol dire customer experience. Un altro esempio, che peraltro è un esempio che riguarda moltissimo le persone della mia generazione e delle generazioni precedenti, è la casa motociclistica Harley Davidson, per esempio, ha questo brand iconico del motociclismo che anche qui fa della customer experience nell'utilizzo delle sue motociclette un qualcosa che è assolutamente unico e che anche in questo caso fa sì che i propri clienti siano veramente dei fan e dei supporter straordinari. Allora, io credo che la nuova frontiera che i consuliti finanziari si troveranno a dover esplorare e cercare anche di praticare, sì, mi viene questo termine, è appunto questa, ovvero quella legata alla cosiddetta customer experience. Ma che cos'è la customer experience? Allora, provo a darti una definizione molto semplice, che è il modo in cui i clienti percepiscono l'interazione con la tua organizzazione, cioè il modo con il quale i clienti si relazionano a te, ma non solo questo, probabilmente è lo stesso modo con il quale, per esempio, vengono in contatto con te, ottengono le soluzioni, ottengono le informazioni, è il modo con cui, per esempio, tu li accogli in ufficio, è il modo con cui conduci una visita di assistenza presso la loro dimora, è tutto ciò che succede prima, che succede durante e che succede dopo. E oggi, più che una volta, la clientela, devo dire che si è fatta sempre più esigente. Perché? Perché di fatto con l'avvento di Amazon e con la customer experience, a cui ad esempio Amazon ci ha abituati, devo dire che è come se ci stessimo amazonizzandoci tutti. Prova a farci caso, ogni volta che vai, per esempio, in un negozio fisico, il fatto di non poter avere subito, magari, quel determinato paio di scarpe, perché magari il commesso ci dice, guardi, deve avere pazienza, la prossima settimana, se torna, troverà il paio di scarpe che è andato fuori di stock in questo momento, e quindi ci stiamo approvvigionando. Ebbene, una certa impazienza la notiamo dentro di noi, perché ci siamo ormai abituati a sapere che con un click riusciamo, addirittura a Milano, in pochissime ore, addirittura ad avere ciò che desideriamo. Questa grande attesa sulla customer experience che hanno i clienti, poi si riflette anche tantissimo in tanti altri modi che i clienti hanno di concepire, ad esempio, il servizio. E quindi ciò che poteva funzionare una volta, magari adesso tenderà a non funzionare più. Ciò che noi immaginavamo non potesse funzionare una volta, oggi potrebbe funzionare. Un altro tema dove il cliente del consulente finanziario comincia ad essere particolarmente esigente è dettato poi dalla MIFID 2. La percezione del valore che attraverso il togliere questo velo di opacità, perché parliamoci chiaro, MIFID 2 punta a fare questo, il togliere questo velo di opacità è su quelle che sono appunto le FII, e quindi il sapere da parte del cliente finalmente non solo che cosa paga in valore assoluto, ma che cosa poi arriverà al consulente finanziario pone immediatamente il faro da parte del cliente e nella relazione tra cliente e consulente finanziario pone il faro sul valore e soprattutto sulla percezione, attenzione, del valore che il cliente ha. Percezione del valore che, se dovessi appunto andarla ad analizzare, è composta di tre elementi. L'accessibilità, cioè la facilità che il cliente ha, per esempio, nel raggiungere i servizi che tu offri. Il servizio in sé, che è un'altra cosa importantissima, e poi, ed è anche peraltro l'argomento che tratto in questa puntata del podcast, è proprio la customer experience. E questo estratto conto verità porterà necessariamente il settore a doversi confrontare con i concetti di valore del servizio, ma soprattutto di percezione del valore del servizio da parte della clientela. E presto i clienti cominceranno a confrontare quanto pagano per il servizio di consulenza con te rispetto non solo a quanto stanno ottenendo, ma a parità di costi ti confronteranno chiaramente con altri competitor o magari con lo stesso consulente con cui sei in coabitazione sul patrimonio del cliente. Attenzione perché prima di MIFI 2 questa coabitazione faceva sì che tutto sommato il cliente non si rendesse conto fino in fondo di quanto andava pagando, di che cosa stava ottenendo. Probabilmente lo stesso cliente dava per scontato e immaginava che sì, qualcosa pagherò, ma non aveva ben presente che cosa e soprattutto di quella determinata fee che cosa sarebbe andato al consulente. oggi invece il fatto della trasparenza porta inevitabilmente il cliente a chiedersi ma quel determinato consulente il consulente A piuttosto che il consulente B sono cari o sono costosi? E qui è un tema importante perché la Casa Mare Experience da questo punto di vista è in grado di poter veramente poterti rafforzare rafforzare nell'idea magari di dire al cliente guardi sì, è vero sono costoso ma a fronte del costo che sta sostenendo lei sta ottenendo questa serie di servizi piuttosto e questo ti auguro che non possa mai accadere che il cliente ti percepisca caro perché se la percezione del cliente è questa innanzitutto sarà molto concentrato sul prezzo e non sul valore ma se una persona è concentrata sul prezzo cosa che avviene abbastanza naturalmente perché tutti noi siamo clienti e desideriamo spendere meno in realtà vuol dire anche però che non stiamo percependo quel valore che giustamente deve essere remunerato e retribuito ecco io proverei proprio a partire da quella che è la percezione dei clienti per poter cominciare a progettare e successivamente costruire una vera e propria customer experience allora hai provato mai a metterti in ascolto dei tuoi clienti in merito a ciò che stanno sperimentando servendosi da te e perché anche qui se posso dirti avendo anch'io svolto la professione va detto che questa è stata sempre una professione che negli ultimi trent'anni avendo bisogno di affermarsi diciamo che aveva e ha avuto e ha tuttora ancora talune volte una modalità di approccio molto push molto dispinta e non poteva essere altrimenti perché ovviamente c'era bisogno di farsi largo in un settore che era tutto da inventare e che peraltro si confrontava con un con una icona rappresentata dal modello di banca tradizionale questo però quando tu sei in spinta sei poco attento a ciò che può pensare il cliente sei molto più concentrato mettiamola così sull'ombelico della tua impresa su ciò che stai offrendo non chiedendoti fondamentalmente quanto invece il cliente desidera ma soprattutto desidera vivere con te in termini di esperienza ecco che l'importanza oggi di mettersi in ascolto dei clienti visto che sono anche sempre più esigenti e più attenti diventa probabilmente la via maestra per poter cominciare realmente a progettare in maniera strategica quella che è la customer experience e credimi per lavoro viaggio spessissimo e quindi dormo tantissimo in albergo mi rendo conto delle differenze tra un hotel e l'altro eppure stiamo parlando della stessa identica cosa il loro servizio è quello del dormire ma tutta la fase che è precedente alla fase del dormire l'accoglienza per esempio e tutta la fase che è successiva al dormire che è per esempio la colazione sono due elementi importanti e che ti posso garantire fanno la differenza nella percezione della customer experience che ogni volta io ho a seconda del tipo di hotel che frequento e posso garantirti che ci sono alcuni hotel che sono al primo posto nella mia classifica personale dove ci continuo ad andare sempre con grande piacere perché so di trovare esattamente ogni volta la stessa riesco a vivere la stessa identica esperienza agli standard che ovviamente risuonano dentro di me che mi aggradano e altri invece dove chiaramente do una recensione negativa dentro di me non lo faccio di solito su TripAdvisor ma proprio perché non sono curati non sono attenti oppure molto spesso hanno anche quell'arroganza che è tipica di chi si trova a fare un'attività che è in spinta dove pretendono loro che sia il cliente ad adattarsi e non di contrario allora quali possono essere le strategie per cominciare ad avere tutti quegli elementi utili a progettare una customer experience e poi a cercare di farla vivere al cliente beh la prima cosa che mi viene da suggerirti è quella di fare un'indagine di soddisfazione della clientela la cosiddetta indagine di customer satisfaction allora come fare la prima cosa da fare è completare un questionario un questionario che potrebbe cercare di esplorare come il cliente sta vivendo il tuo servizio di consulenza attenzione molti consulenti finanziari tendono a non informarsi a non interessarsi a questa cosa per paura per paura di ricevere magari anche dei feedback negativi però credimi è molto importante fare in modo che i clienti esprimano la loro opinione attenzione non la esprimeranno su di te persona la esprimeranno sulle azioni che tu compi e un feedback anche un feedback negativo è utilissimo per te per poter apportare delle modificazioni a quello che è delle modifiche scusami a quello che è il tuo servizio perché perché in alternativa il cliente ha che cosa o il fatto di non parlare bene di te perché magari si è trovato male perché quello che facciamo abitualmente noi quando magari andiamo in un hotel siamo accolti male dormiamo male la colazione è pessima e dopo ne parliamo in giro oppure ancora peggio il fatto di non tornarci più in quell'hotel ma come nel caso del cliente del consulente finanziario l'estrema razio ha una insoddisfazione ricordiamocelo sempre è la famosa lettera di disinvestimento inviata con raccomandata dove senza andare tanto per il sottile il cliente ci dice ciao e appunto dice guarda ho preferito andare da un'altra parte allora il questionario però attenzione ha anche lui diciamo delle modalità per essere raccolto allora una prima modalità potresti essere tu a raccoglierlo i pro ovviamente la facilità di raccolta del dato al termine di una di una visita per esempio che hai fatto con il cliente gli dici guardi mi farebbe molto piacere sondare con lei il suo grado di soddisfazione è chiaro che qui i pro sono legati alla facilità della raccolta del dato sei di fronte al cliente il questionario è a portata di mano e via il contro però è che non sempre il dato che ti verrà fornito corrisponde a verità perché c'è quella componente emotiva del cliente che lo porta magari a mentire a non avere il coraggio di dirti che cosa va e che cosa non va specialmente se magari tu sei dotato di un carattere anche importante sei anche magari un po' ingombrante consentimelo nella relazione c'è il rischio che il cliente senta appunto incombere questa figura e quindi dice meglio che scriva che mi sto trovando bene e quindi su questa cosa qui credo che la modalità di poter sondare la soddisfazione dei clienti attraverso un questionario che venga dato direttamente da te diciamo che la sconsiglierei la seconda ipotesi potrebbe essere quella la seconda via potrebbe essere quella di farla attraverso un tuo collaboratore come per esempio attraverso una semplice comunicazione che tu farai ai clienti dicendo guardate ho incaricato un'azienda che si occupa di indagini di mercato e quindi mi farebbe molto piacere capire da voi rilasciando chiaramente le risposte a questa intervista a questa a questa azienda che si occupa di indagini di mercato come vi state come vi state trovando ovviamente è vero potreste affidare la cosa a un'azienda ma potrebbe essere tranquillamente un assistente un assistente virtuale che farà il lavoro per voi intanto la percezione che darete anche nel chiedere una parere ad un cliente da parte del cliente sarà assolutamente molto elevata e devo dirvi che per il settore della consulenza finanziaria vi metterà nella condizione di essere anche percepiti abbastanza unici perché non è una cosa che accade tutti i giorni in secondo luogo darete senz'altro idea di essere strutturati cioè di aver raggiunto un buon successo professionale tanto da potervi permettere appunto di incaricare un'azienda che si occupa di indagini di mercato e queste sono due elementi che sicuramente depongono molto a favore nel chiedere nel sondare il mercato nel sondare la tua clientela tramite appunto un collaboratore i contro sono ovviamente legati al tema dei costi però ti invito a fare una riflessione in questo caso non lo considererei un costo ma lo considererei un vero e proprio investimento e imputerei questo costo nel budget di marketing perché più sondi il terreno più capisci l'esperienza che i clienti stanno facendo più queste informazioni ti saranno estremamente utili per il tuo marketing e per strutturare al meglio il tuo servizio ricordati sempre che marketing is not selling dicono gli americani il marketing non è vendere but selling is marketing ma il modo con cui tu vendi è marketing è fare marketing in questo caso il modo con cui tu fai percepire il tuo servizio è marketing perché una persona che si dovesse trovare bene con te è normale che possa referenziarti proprio perché ha vissuto una esperienza di alto profilo di alto profilo il terzo la terza modalità che è un po' più impersonale è quella dello inviare il questionario online i pro sono chiaramente questi sono legati al fatto che i costi sono equivalenti allo zero oggi ci sono dei servizi gratuiti google ne fornisce uno che si chiama google form ti suggerisco di digitare google form vedrai ci sono un sacco di tutorial che ti consentono per esempio di fare delle indagini inviando un questionario elettronico ai tuoi clienti potendo permettere loro di rispondere il contro di questa attività ovvero di inviare online dei questionari è quella di non essere in grado di percepire e di intercettare soprattutto quelle che sono le emozioni emozioni che vengono date da rispondere per esempio a una persona in carne ed ossa e quindi io suggerisco sempre nel momento in cui si fa l'indagine con la clientela di farlo attraverso un essere umano e in questo caso un collaboratore una seconda modalità per poter sondare la soddisfazione dei clienti e l'ho battezzata il cosiddetto Customer Advisory Board cioè il gran consiglio della tua clientela il gran consiglio dei clienti è a mio modo di vedere un altro modo molto bello di potersi mettere in ascolto in questo caso non di tutta la clientela ma diciamo della clientela chiamiamola così top di quelli che appartengono al primo decile cioè sono i primi dieci clienti o forse i primi quindici quelli che di fatto oggi rappresentano buona parte del tuo portafoglio sono quelli che rappresentano buona parte anche del tuo fatturato non dimentichiamolo dove di fatto che cosa fai non fai altro che invitarli magari due volte l'anno ad un incontro ovviamente preannuncerai loro che sono coinvolti in questo progetto che si chiama appunto il gran consiglio dei clienti dove sono presenti anche altri 6-7 clienti che tu stimi 8 poi deciderai tu e dove ogni anno ti metti in ascolto in ascolto cioè fai in modo che siano i clienti a dirti guarda quest'anno abbiamo apprezzato di te questo avresti potuto fare meglio su un'altra cosa quest'anno ci piacerebbe che a fronte di un programma di eventi che tu stai organizzando caro consulente ci piacerebbe che tu trattassi questi temi ecco il gran consiglio presuppone soprattutto che tu sia la persona che ascolta non che parla perché l'opportunità che ti viene offerta da questi saggi è un'opportunità straordinaria che poi potrà essere veicolata successivamente anche ad altri clienti perché perché nel momento in cui tu andrai ad esempio a comunicare quello che è il programma di seminari finanziari che hai intenzione di organizzare per l'anno in corso ebbene potrai fare tranquillamente riferimento a questa indagine che hai appunto fatto con il gran consiglio dei clienti e quindi il gran consiglio dei clienti diventa un altro strumento importantissimo in termini di feedback ma da cosa è composta una buona customer experience allora immagina che se dovessi cominciare a progettare una customer experience efficace devi immaginare che è composta di tre livelli il primo livello è relativo alla soddisfazione delle esigenze del cliente sgombero subito il campo da una cosa che per me è molto importante allora negli ultimi trent'anni questa modalità molto push da parte dei consulti finanziari di cercare di acquisire quote di mercato li ha portati molto spesso a fare che cosa a acquisire la clientela facendosi e dicendo a quest'ultima guarda non preoccuparti ti seguo sicuramente molto meglio di come venivi seguito in banca ma nel contempo non ti chiedo di fare un triplo salto mortale carpiato della serie sappi che la banca c'è anche da me sappi che gli investimenti non ti vado a stravolgere vado semplicemente a efficientare la tua la tua posizione e poi di fatto avrai un servizio bancario molto più evoluto e personalizzato ma diciamo che non c'è una grandissima differenza certo c'è in realtà ma si è sempre stati molto accorti nel fare in modo di far percepire al cliente che c'era un miglioramento ma non c'era una rivoluzione copernicana nell'approccio ebbene però la domanda è che solitamente corrisponde a questo primo livello della costruzione della customer experience ovvero il cliente ha trovato ciò che cercava spesso magari è stata messa da parte o non ci si è fatto mai caso perché si era appunto in spinta lo dicevo all'inizio di questa puntata allora prova a chiederti il cliente in questo momento con me sta trovando ciò che cercava se non sono in grado di o ho qualche dubbio beh vado a chiederglielo perché qui c'è la fondazione della customer experience e del tuo progetto di customer experience il secondo livello invece è relativo alla cosiddetta facilità di accesso il cliente ogni qualvolta si relaziona con me ha trovato quello che cercava primo livello ma in questo caso senza grandi sforzi ti porto sempre questo esempio oggi noi con lo smartphone ci scocciamo se dobbiamo fare addirittura un click in più per ottenere l'informazione quindi immagina che cosa vuol dire nel caso del mondo reale dove di fatto determinate scelte organizzative possono determinare la più o meno facilità del cliente nell'accedere a ciò che cercava e senza sforzi il terzo livello e che è quello più alto e che riguarda la cosiddetta piacevolezza ovvero il cliente ha trovato ciò che cercava non ha dovuto faticare e soprattutto ha trovato questa esperienza piacevole e rassicurante ebbene questi tre livelli sono i tre livelli che effettivamente compongono una perfetta customer experience e quindi comincia a chiederti senza dare nulla per scontato se ti porto alcuni esempi i quattro o più o meno appuntamenti che durante l'anno tu hai con la clientela sull'andamento del portafoglio degli investimenti sono considerati sufficienti dal cliente non solo in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi chiediti se per esempio l'impostazione degli stessi il modo con cui tu svolgi il tuo compito il modo con cui si svolge l'appuntamento e tutto questo risponde ai tre livelli di customer experience di cui ti parlavo poco fa e magari troverai delle sorprese scoprirai che il cliente si sente più rassicurato a venire in ufficio piuttosto che a casa sua e tu magari davi per scontato che andare a casa del cliente è un servizio assolutamente di alto livello oppure al contrario il fatto di venire in ufficio venire da te in ufficio magari è troppo difficoltoso è complicato hai un bellissimo ufficio ma è in zona traffico limitato oppure la persona è anziana e deve parcheggiare l'auto a distanza e percorrere un tratto di strada troppo troppo lungo troppo trafficato e queste sono tutte domande che è fondamentale farsi per poter riuscire ad avere delle soluzioni ecco che magari una soluzione potrebbe essere quella di farsi vedere online e magari non dare per scontato che siccome il cliente è anziano magari l'online non lo gradisce io ricordo sempre che dico sempre che mio papà ha 80 anni è bravissimo a usare whatsapp video ad esempio per vedere per chiacchierare con le sue nipoti eppure voglio dire è uno strumento che si è aggiunto oggi alla nostra vita il telefono lo smartphone whatsapp e whatsapp video in particolare e quindi perché non utilizzarlo anche con la clientela oppure nella relazione tra cliente e consulente oppure un'altra cosa un'altra domanda che mi farei è l'agenda degli incontri è funzionale a dare la percezione di essere in presenza di un servizio di alto livello e quindi l'agenda intendo la modalità l'ordine del giorno che ogni volta tu dai oppure sai e rispetti e cerchi di rispettare per fare la tua visita e alcuni consulenti finanziari americani tu sai che studio con molta attenzione ciò che avviene negli Stati Uniti per esempio sono soliti addirittura anticipare gli argomenti dell'incontro ai clienti tramite una mail guardi in occasione dell'incontro che faremo questo venerdì alle 15.30 mi farà piacere trattare con lei questo questo e questo e questo può essere un elemento di grande rassicurazione da parte del cliente ma anche viene vissuto come grande professionalità e quindi viene vissuto con una customer experience come customer experience importante oppure l'invio periodico di comunicazione o newsletter che spesso e volentieri adesso i consulenti finanziari stanno cominciando a fare sei sicuro che i contenuti che tu produci siano di facile comprensione soddisfano tutti i tre i punti legati alla customer experience quando scrivi lo fai per te o lo fai per il lettore attenzione perché c'è una grande differenza scrivere per se stessi molto spesso ci porta ad utilizzare linguaggi molto complessi gerghi professionali scrivere per il lettore vuol dire diventare una sorta di Alberto Angela che divulga una materia complessa come la finanza e la divulga in maniera semplice ma soprattutto per esempio nelle comunicazioni sono in grado di fornire concrete soluzioni alle problematiche dei propri clienti cioè leggendo un tuo articolo una tua newsletter un cliente potrà trovare già delle soluzioni non aver paura di fornire delle soluzioni non aver timore che il cliente leggendoti poi queste soluzioni le vada a cercare da un'altra parte ricordati sempre che fornire dei contenuti di valore in cambio ti permette di ottenere una cosa che oggi è oro visto che siamo bombardati di stimoli a destra manca ci permette di ottenere in cambio l'attenzione dei clienti e l'attenzione dei clienti è oro in questo momento perché più il cliente ti dà attenzione più il cliente installa letteralmente un'abitudine nel leggerti e nell'ascoltarti e conseguentemente poi la tua reputazione la tua credibilità presso di lui saranno molto elevate soprattutto soprattutto rispetto magari a un altro competitor con il quale coabitate sullo stesso patrimonio sullo stesso portafoglio altra cosa per esempio possono esserci tra te ed i clienti delle altre modalità di contatto di ascolto di dialogo che appunto il cliente potrebbe apprezzare e percepire come di valore torno sul tema della web conference oggi c'è un grande rischio da parte dei consolidati finanziari legato alla MIFID 2 la cosiddetta compressione dei margini compressione dei margini che però a mio avviso non deriverà dalla rinegoziazione delle commissioni da parte dei clienti più importanti perché i clienti più importanti tu li segui già e li segui già molto sei molto attento sei puntuale presso di loro sei molto attento ai particolari eccetera io ritengo che una minaccia importante sulla compressione di margini potrebbe derivare per esempio dal fatto che ci sono interi pezzi di portafoglio che sono rappresentati dalla cosiddetta clientela marginale che proprio perché era clientela piccola magari non veniva visitata o non viene visitata dal consulente finanziario perché magari è un'ora di distanza e dice ma sì faccia meno di andare tanto cosa vuoi sono 20.000 sono 30.000 euro attenzione perché quel piccolo portafoglio oggi ricevendo l'estrato conto verità di fatto vedrà che non solo di quei 30.000 euro che ha dato al consulente paga il 2% quindi paga 600 euro all'anno ma attenzione di quei 600 euro 200 euro o 300 euro vengono dati ad un consulente che non ha mai visto ricordati sempre che tu vendi consulenza in abbonamento tu sei come Netflix o come Sky la managgia meffitua è l'abbonamento che ogni santo giorno il cliente paga per avere la tua consulenza credo che ti scoccerebbe alquanto pagare Sky e non ricevere il segnale dopo un po' ti scocci e sarai disposto a dare disdetta ovviamente ecco il chiedersi senza dare nulla per scontato nel farsi un po' di queste domande credo che ti potrà sicuramente aiutare incorciando poi i dati con la customer experience e con la indagine perdonami sulla customer experience data ai clienti e ricevuta dai clienti in questo caso le risposte ricevute dai clienti ti permetteranno veramente di poter avere tutti gli elementi per cominciare a costruire i tre livelli di customer experience e che ti consentiranno veramente di ottenere e di essere percepito come un grande professionista allora andiamo alle conclusioni di questa puntata del podcast la battaglia tra l'essere percepiti cari o costosi a mio modo di vedere potrà essere vinta dal consulente finanziario essenzialmente attraverso il fornire una customer experience di altissimo livello in abbinamento chiaramente anche a un altro tema che è molto caldo e che affronterò nelle prossime puntate che è legato a quello della pianificazione finanziaria pianificazione finanziaria che viene fatta ancora troppo poco dai consulenti finanziari ma vorrò dedicarci una puntata ad hoc proprio del podcast perché? perché la pianificazione finanziaria tramite il cosiddetto goal based investing l'investimento basato sugli obiettivi è l'unica via oggi per fare in modo che questa professione continui a prosperare e a essere percepita di fatto come una professione essenziale fondamentale nella vita del cliente perché senza un partner un professionista che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi è evidente che è molto difficile non pensare di avere un consulente finanziario al proprio fianco e quindi rispetto a questo tipo di considerazioni mi sento di dirti che da quello che ho avuto modo di condividere con te in questa puntata dell'imprendi promotore podcast il tema della customer experience come avrei capito assume grandissima rilevanza nell'andare incontro ad un'altra delle sfide più importanti con la quale la consulenza finanziaria dovrà confrontarsi che è appunto l'attenzione la sempre maggiore esigenza da parte dei clienti di vivere standard molto elevati progettare una customer experience e definirne soprattutto i contorni gli standard le procedure utili a metterla in pratica a metterla a terra sono scelte fondamentali che il consulente finanziario dovrà fare per raggiungere sicuramente nuovi e maggiori risultati per la propria clientela innanzitutto che ricordo è il principale datore di lavoro dei consulenti finanziari ma di tutti gli imprenditori ma per sé e soprattutto poi per la impresa di consulenza finanziaria prima di concludere questo episodio però voglio invitarti questa volta ad iscriverti al canale youtube dell'imprendi promotore l'iscrizione al canale youtube ti riserva la possibilità di rivedere o riascoltare tantissimi contenuti ad esempio potrai riascoltare questo podcast ma anche tutte le puntate dei due show live che ho l'anno scorso ottenuto settimanalmente nel gruppo facebook dell'imprendi promotore che sono appunto l'imprendi promo show e la per il promotore per iscriverti è semplice vai su youtube e cerca imprendi promotore riceverai una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo contenuto clicca sul pulsantone a destra e ricordati di cliccare anche sul simbolo della campanella a fianco ogni volta che avremo modo di pubblicare un contenuto in questo modo sarai avvisato io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ciao alla prossima puntata hai ascoltato l'imprendi promotore strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino per informazioni domande suggerimenti scrivi a infochiocciola imprendipromotore punto it l'imprendipromotore 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 Grazie a tutti.